Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono AbbracianoGG e siamo in un GTA un po' diverso, ho messo una mod che praticamente dà più mod e adesso sto scappando questi... Che cazzo è? No! Allora, praticamente ci sono i zombie che se loro muoiono esplodono, quindi non li posso nemmeno ammazzare se non muoio pure io E adesso ho anche il binocolo, aiuto, non ci sto capendo niente, però dobbiamo scappare molto velocemente Ma come cazzo guidiamo adesso? Vabbè, non ci facciamo questi problemi, ok? Posso... Cazzo! Cambio visuale! Cambio visuale! Non capisco niente! No! Vabbè, ci vedo comunque, dai, oddio, i miei occhi non vedono più niente Allora, oggi andremo a fare qualche missioncina, andiamo da Michael, voglio andare da Michael E con queste mod speriamo di finire qualche missione, ecco, già abbiamo rischiato la vita e non abbiamo nemmeno iniziato Allora, vediamo... Mi sta crashando il PC Che cazzo ha spawnato? Ah, fake crash! Forse è ora di rubare un'altra auto, voi che dite? No, no! Mannaggia! Ok, mi rubo la tua auto che mi dovrebbe andare più nuova Ma che è successo? Oddio! Ha maxato tutti i veicoli, ma che figata! È bellissima! Voglio andarci? No, dammi quest'auto, dammi quest'auto Puttana! No, 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 mi dissocio Ma dai! Oh, che bellezza! Che bella mod! Ah, così si arriva subito da Michael, cavolo Gesù! No, no! Gesù mi ha ucciso! Perché Gesù? Ma cosa ci ho fatto a Gesù? No, ragazzi, andare da Michael No, aspetta, ma ci vuol dire, ci stiamo con Gesù che ci rompe Oh, no! Per favore, Gesù non ci rompere Stai nei cieli e non disturbare Andiamo verso Michael e non ci facciamo problemi, sono 600 metri Prima che finisca quel coso, sennò inizia a spawnare Gesù Non lo so chi gli spawna, ma scappiamo No! Oltre alla modda, anche questi qua che non sono capaci a gui... Ah, così proprio, vabbè Ragazzi, Gesù non ci vuole far andare da Michael Io non ci posso fare un cazzo Io vado da Lester Ma Gesù! È OP! Non mi fa andare da Michael Sta lì a camperare Che mi sciotta, mi sponchilla Flying... Che fuori di flying car? Beh, leviamo il copyright che non si sa... Oddio! Ma che cazzo... Insomma, mi ha... Mi ha distrutto Vabbè, non dubbio dobbiamo questa auto Oh... Ma che cazzo succede? No Sky, oddio Si sta buggando tutto, ragazzi Full break e No Sky è... Ormai la vera missione è provare ad andare a fare le missioni Ma è impossibile Intanto il cielo così, guarda, mi sto rincoglionendo Pare che mi sono drogato Oh, meno male Perché... No, vabbè Impazzisco, signori Twitch Cioè, non ammazzo le persone Sono anche... Di cercato Io ando sopra le montagne E... Aspettiamo che finisca, dai Queste due stelle Oddio Scavo le monti con la... Supercar Oh, no Vedi corriendo Vuol dire che è la pioggia degli... Cazzo! Dia... No! Piovono macchine Stavo dicendo Porco due! No, no Se una mi spavola una sopra la testa E mi uccide, guarda Oh, no 0,5 game speed Oh, no Vabbè, no Oddio non è tanto un problema Cerchiamo di andare adesso da coso Ma che è st'auto? Ah, ma è esplosa? Che auto è? Perché esplosa? Vabbè, non lo voglio sapere Lock veicolo camera Oh, no Voglio passare solamente a destra sinistra Senza girare Ci sto provando Ma, come potete vedere Mi rimanda Posizione originale Però Alla fine è pure figo così Posso dire? Forse è pure meglio No, vabbè, è meglio no Pare in gioco 2D Mmm Siamo arrivati! Siamo arrivati Che bello Che bello Ora che eravamo arrivati C'è la gravità Che ti spinge tantissimo Minimal damage Vabbè, va bene così Andiamo Oh, ma sono vestito anche bene Guarda che gentil'uomo Franklin Oh, no Devo essere Michael Questa è una presa per il culo Vabbè, dai Cambiamo personaggio Spera, non è qui c'è Oh, no Qui c'è Gesù in teoria Più o meno Io proverei ad andare verso casa nostra Andiamo da l'estero Andiamo sul sicuro Andiamo sul sicuro Che cazzo succede? Killer clown No, 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 no Ma che miraccia Che killer clown poi? Cioè, mi prenderà laggiù Quanti ce ne sono? Precisamente Vabbè, non lo voglio sapere Non diamoci La sento sparare, ma Oh Ma che ci fa? A caso Perché c'è lui? Ma cosa vuole? Perché mi sta dietro? Ma battere Ma chi ti vuole? Boost Boys Ok Aspetta Quanti ne sp... Oh, ma che cazzo fanno? No, no No, vabbè, raga Io non ci credo Ma perché mi acciaccano? Madonna Ma che è successo qua? Eh, vati tu Dammi st'auto You are famous Che vuol dire? Oddio Ma che fanno? Aiuto No, mo mi è spotter più ci Penso Ma quelli gabbiani Un incontro Perché quel gabbiano Si è suicidato? Purello Ah Green traffic Ok, campione Ma che volete da me? Fanculo Ma vaffacculo pure tu No, ma che cazzo Ma vaffacculo Pare che quella pubblicità In cui arrivano Arrivano tutti a dire Ma che cazzo fai? E gli diretti schiaffi Pa, pa, pa Ok, me devo da Mi voglio nominare Però Non ci sarà male Ci sarà molto Io arrivano Ok, mi voglio Ma no La mia auto Che cazzo fa questo? No La mia auto Ma no Mi serve Ma che aiuto Ok, andiamo Perché c'era con me quello? Ehm Vabbè L'Ester non si fa problemi Anche Stanno sparando fuori casa mia Forse È il mio amichetto Michael Cosa? All Pets are cops Porca putta Simon sei Sì, ma Simon deve sapere Che se me lo fa Mentre guido Non è che mi posso Ok, regà È impossibile Sta roba C'era quante cose C'è, sei Era così vicino All'Ester Ma ogni volta C'è sempre la pulizia A rompermi i coglioni Ma vaffa culo No 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 Gesù Grazie Gesù Regà Gesù Per una volta Ah, perché Tutti sono invincibili Forse Invincibile Vabbè Ragazzi Ma Gesù è stato bravissimo A regalami sta roba Ma perché sono sempre ricercato Ok, iniziamo Iniziamo Per favore Per favore Per favore Sì Ho paura Nel prossimo Oh, porca Ma su che cosa Si sta sentendo Ragazzi Ok Ok, Lester Non so che ho visto i poderi Ma poi che cazzo succede Volano robe Ok, c'è il terremoto Ma Le cose gli volano in faccia Non gli pregano niente Gli stanno rompendo Tutti i pc Tutto Via dai coglioni Ma che perché No Brad Sei inutile Brad fa parte dell'ISIS Se non lo sapevamo No, no Mi dissocio Signore No Mi dissocio Ok, quindi Possiamo entrare Che cazzo succede Praticamente mi ha spawnato un'auto Che non doveva spawnare Tutto sto negozio E praticamente sono esploso E sono morto Cioè non ho esploso No, però sono morto Ed essendo morto Ha continuato la missione Perché non dovevo morire In quella cazza In genere È impossibile che morissi Sì, finalmente Ora, speriamo Dobbiamo arrivare Tutta la roba Porn Praticamente Oh no Vagli con raid Mo' inizia a spawnare tutto Regà Vabbè, però non ho ancora Sposto nessun'auto Bello Ah Ok Capita Io entrerei Con l'auto nuova Che ho comprato Per niente rubato Moglie Io c'ho i soldi Tu no Ma c'è Gesù Ma c'è Gesù Guardalo Mentre La Gesù Che boh Sta là A stalkerare Con quella mazza Mentre lui Vai cambiamo canale Ho già trovato Ma guarda Non si mette in mezzo Ma che vuoi Ma Ma che cazzo E spero non faccio qua Ok campione Cioè E insomma Ma Posso guidare dentro Che storia Posso guidare Posso guidare dentro La casa È bellissimo